Ciao a tutti, io sono Anilirfa e bentornato sul mio canale. Oggi andremo a parlare del pannello di controllo dell'invidia e andremo a migliorare le impostazioni per potenziare gli fps per i nostri giochi. Quindi per riuscire a fare tutta questa operazione vi consiglio di guardare il video fino in fondo e naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, ci dobbiamo arricchare sul desktop del nostro pc e come prima cosa clicchiamo col tasto destro. Come potete vedere qui c'è il pannello di controllo invidia, quindi andiamo a cliccare qui. Dunque a questo punto andiamo nella prima voce, ossia regola l'impostazione dell'immagine ed è questa qui. Dobbiamo andare a cliccare nella seconda voce, ossia usa l'impostazione dell'immagine 3D avanzate. A questo punto andiamo a fare applica qui in fondo. Ora andiamo in gestisci l'impostazione in 3D. Andiamo sulla seconda voce, ridimensionamento immagine e andiamo a fare attivato. La seconda voce qui vedete. A questo punto lasciamo l'impostazione di default 50% e andiamo però a mettere qui la spunta e andiamo a fare ok. Allora adesso andiamo a vedere un po' le impostazioni globali. Funzionalità impostazione, ridimensionamento immagine attivato, anti-alice correzione gamma attivato, anti-alice alias FXAA disattivato, qui rimane in grigio, anti-alice modalità controllato dell'applicazione, anti-alice in trasparenza disattivato, buffer in triplo disattivato, Q da GPU tutte, DSR fattori off, poi dimensioni cache shader driver predefinito, filtro ansiotropico controllato dall'applicazione, questi qua vedete consentiti, disattivato e attivato, la qualità, dobbiamo mettere qualità, fotogrammi preferenziati per le realtà virtuali, io ci ho messo uno, la frequenza di fotogrammi massima disattivata, invece qui è importante che nella GPU rendering open GL andate a mettere in questa maniera cliccando la vostra scheda video. Adesso andiamo anche a modificare la modalità bassa latenza, perché qui è disattivato, ma noi adesso andremo a mettere su ultra. Ok. Quindi la modalità di gestione dell'alimentazione potenza ottimale, il resto lo lascio così come non lo vado a cambiare. Dunque a questo punto che abbiamo finito, ricordiamoci sempre di andare a fare applica, quindi andiamo ad applicare le nostre impostazioni. Dunque adesso andiamo nella terza voce, ossia configura, surround, questa, e andiamo qui a modificare, e andiamo a mettere la nostra scheda video. Qui abbiamo terminato, quindi andiamo a fare anche questa volta applica. Quindi eseguendo questi piccoli passaggi abbiamo a questo punto nettevolmente migliorato i nostri FPS, e anche la modalità della grafica vedremo molto meglio all'interno dei nostri giochi. Quindi è stato molto semplice farlo, se avete delle domande naturalmente fatele qui sotto nei commenti, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, e naturalmente mettete un bel mi piace a questo video. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao a tutti!